benvenuti alla valle dei fiori parliamo oggi di piante grassi perché c'è la mostra delle piante grassi dal 9 di settembre sino al 30 settembre abbiamo un grande assortimento di piante grasse nel vasino del 3 e mezzo del 5 e mezzo 6 e mezzo 8 10 sino al 14 con tutte le fotografie le piante grasse si dividono in pianta grassa che sono queste e le succulenti che sono quelle da davanti là sono succulenti sono uguali il trattamento lo succulente va venato un po meno le piante grasse che abbiamo noi qui ne abbiamo è stata una mia passione ancora 50 anni fa perciò ne ho di tutti i tipi abbiamo degli esemplari e abbiamo degli sconti speciali sugli esemplari che sono piante che hanno 70 80 anni inoltre abbiamo delle composizioni esclusive di piante grasse che stanno in casa larghe 10 cm sino a più sino anche 30 40 poi abbiamo composizioni nel vetro abbiamo un assortimento di euforbia sono queste le euforbie che stanno il sole anche il sole coccente che continua a fiorire abbiamo tutti gli innesti anche quella la viola è un'euforbia innestata su un'altra euforbia poi abbiamo la lingua della suotera o la sanseverde a lingua della suotera questa e abbiamo tutte le particolari di aloe che faremo una trasmissione a parte per tutte le aloe ecco poi abbiamo tutte le piante che fioriscono abbiamo le sanseverde cilindriche con colori sopra ecco qui c'è veramente 500 metri quadrati di scelta di piante grasse oltre averle anche fuori perciò io sarei molto onorato di avervi qui solo per vedere perché è una collezione di piante grasse che non trovate in tante parti perciò io vi aspetto seguitici su internet e su facebook e su tutti i soldi anche noi metteremo tutto quello che abbiamo di novità e anche dei prezzi molto speciali io vi saluto vi do appuntamento alle prossime settimane